L'errore umano, l'ipotesi più plausibile, probabilmente lo spostamento non voluto di una tubazione durante alcuni lavori nel sottosuolo effettuati nelle settimane precedenti. Lo accerterà l'inchiesta dalla procura di Trani, omicidio colposo e lesioni gravissime, l'ipotesi di reato nel fascicolo del magistrato Simona Merra dopo l'esplosione partita presumibilmente da una conduttura in via Milano a Barletta che è costata la vita di un operaio dell'Italgas, Nicola Del Vecchio, 56 anni, originario di Margherita di Savoia. Stava provvedendo all'individuazione del punto da dove proveniva la fuga a causa del cattivo odore avvertito sin dal primo pomeriggio, quando è stato travolto dalla deflagrazione. Con lui un collega rimasto ferito insieme ad un vigile del fuoco e al comandante della polizia municipale. Salvo per miracolo, l'assessore Marcello Lanotte è intervenuto per un sopralluogo, allontanatosi pochi secondi prima per prendere il caricabatteria del telefonino in auto. Gli stabili della zona, a poche centinaia di metri dal palazzo di Via Roma, crollato il 3 ottobre del 2011, sono stati fatti evacuare per precauzione. Da quanto emerge il gas avrebbe saturato l'aria nel salone per parrucchiera, andato quasi completamente distrutto. Era chiuso nel giorno di festa, fosse stato aperto, sarebbe andata diversamente. Mi hanno detto, dice signora, è tutto sotto controllo, non c'è niente, c'è solo una fuga di gas e stanno vedendo di dov'è. E ho detto allora, sono tranquilla, dice sì signora, può andare via perché sta tutto a posto, la fuga è in mezzo alla strada. Me ne sono andata, non facendo mai arrivare sopra casa mia, ho sentito l'esplosione, ma non immaginavo sinceramente che era qua. E se fosse stata ad aprire probabilmente non sarebbe successo. E che ne so, che ne so.